Sono venuta a mangiare il mio baracchino vicino casa e ho preso una samsam thai, che è un'insalata di papaya, questa, molto piccante, e poi un panengai, cioè un curry paneng, questo qui è il baracchino dove fanno da mangiare. Forse un po' con luce non si vede, ma ti volevo far vedere una cosa molto particolare che c'è nei baracchini per strada, ti danno dei tovagliolini per pulirti, no? Soltanto che non sono tovagliolini normali, sono... è carta igienica, quindi tu fai così, adesso vabbè, stono con una mano sola perché devo tenere la telecamera, e... pulisci. Un ottimo metodo di trasporto è la barca sul fiume, questo fiume si chiama Jaupraya, e... ci sono tante linee, questa è l'arancione. Il famosissimo centro commerciale che ha aperto i bastenti nel 2018. Quando attraccano, fanno dei suoni strani, cioè non sono strani, con i fischietto. Con i fischi, che credo che siano proprio un linguaggio internazionale, lì a Poppa danno segni per accostare. Fanno salire e scendere le persone. E via, verso un'altra barcadena. Che ormeggi, eh? Voglio un salvagente così. Guardate quanti pesci, pescioni. Sto aspettando il taxi per andare a mangiare il pollo più famoso di Bangkok, che il pollo fritto all'aglio, più famoso di Bangkok. Che la prima volta che lo mangiai fu veramente tanti anni fa, e lo mangiai, pensate, la mattina. Perché ero appena arrivata a Bangkok con il fuso orario, e... Quindi mi ero svegliata tipo le due alle tre del mattino, era andata al parco, c'erano i cinesi che facevano a Tai Chi. Verso le otto mi è venuta una gran fame, e sono andata a mangiare il pollo fritto all'aglio. Sono salita sul taxi. La maggior parte dei taxi, non tutti, si proteggono moltissimo dal Covid giustamente. Vedete? C'è proprio plexiglass che sale. Eccomi qua, sono arrivata a Soi Polo. I ristoranti sono due, questo qui è il vecchio, è il vecchio ristorante. Poi ce n'è uno nuovo, sempre lo stesso, però io preferisco questo qui perché è all'aperto. Adesso, guardiamo bene come non ci investano. Il pollo l'ho già addentato a dire la verità. Guardate qui, bello fritto, un bell'aglio bello fritto. Mi sono presa anche la Sontam, cioè l'insalata di papaya verde. Non si può mangiare il pollo fritto all'aglio senza la Sontam, insomma è impossibile. Poi salsine, agrodolce e questa piccante normale. acqua e buon appetito! Come potete notare dai miei rimasulli, non sono piena di più. Ho mangiato tutto, tutto l'aglio fritto, tutto il pollo, mezzo pollo mi sono mangiata. E una Sontam enorme, però non l'ha fatta troppo piccante, accidenti. Quando mi vedono sta faccia che non sono thailandese, mi mettono un peperoncino. E ho detto no, mettetemi il peperoncino come se fossi thailandese, non c'è niente da fare, sono terrorizzati. D'ora in poi gli dirò quanti peperoncini mettere. Vediamo quanto spendo. mezzo pollo fritto con aglio, l'acqua è 220 baht che in euro sono 5 euro e 20 centesimi circa. si può fare. Sono uscita dal mio chicken fried preferito e che è un assoi, cioè un vicolo di Tannun with a you, Tannun è strada e with a you è radio, praticamente si chiama via della radio. Però in inglese questa via qua si chiama via wireless, cioè senza fili. c'è tanto che guardate qui, i fili ce ne ha, e come. Guardate qui. È piena di fili, quindi è un po' strano. In Bangkok c'ha dei palazzi incredibili, anche con dei design, guardate questo. Questo qui è il Central Embassy, è uno degli ultimi centri commerciali fatti, il penultimo credo. Qui siamo circondati veramente da grattacieli, tutti piuttosto belli devo dire. Guardate, sono delle opere di architettura. Eh, non si riesce a vedere bene. Comunque ce ne sono, ce ne sono davvero tanti. Qui siamo a Planchit, che è una fermata dello sky train. Però io ci sono arrivata a piedi dal pollo. Sono tornata a casa e adesso vi faccio vedere come si entra in casa. Guardate. Questa è, vabbè c'è il doppio ingresso, no? Questa è la hall. funziona così in Thailandia, cioè la chiamano lobby, come negli alberghi. Là c'è la security, vedete? E quindi c'è questo. Riconoscimento facciale. Avete visto? Poi ci sono tre ascensori. Poi ci sono tre ascensori. Poi ci sono tre di qua e tre di là. Quindi ci sono sei ascensori in tutto che servono il palazzo. Anche perché ci sono tanti, 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 tanti appartamenti. Poi si illumina. Il mio piano è il dodicesimo. Ogni ascensore ha la sua televisione. Così non ti rompi le palle. Mi dicono che non si può appendere fuori i panni. e non si possono avere bombe in mano, niente cani. È cotto. Questa sera sto leggera perché mi sono mangiata il pollo fritto con quell'enorme santamma pranzo. Quindi tagliolini e brodo. si possono prendere sia in brodo che heng. Cioè secchi, no? Ecco, io spesso li prendo secchi così. Sono buonissimi, simissimi, simissimi. E poi ci stanno i lupcin. di due tipi diversi. E poi ci stanno questi qua. Snekia o uno tipo di one town. E poi ti mettono anche... Insomma, tutto questo per la modica cifra di 40 baht che sono poco più di un euro. No. Sono un euro circa. No, forse poco poco più di un euro. Poco... sì, poco poco più. E perché c'è anche... c'è anche la zuppa, eh? Comunque. Ecco. Buon appetito. Ho scoperto che in un canale lì delle... che partono dal Jaupraya, dal fiume principale, c'è una barchetta che porta in giro le persone gratis. una barchetta elettrica. Ecco, adesso... io prendo un taxi o un'autobus, vede, e lo raggiungo. Parte dalla stazione di Wallampong che proprio in questi giorni sta chiudendo la stazione dei treni, che era bellissima, chissà cosa ci faranno. E parte da lì e va fino a Jaupraya e intorno... vicino al Dusit. Ecco, questa è quella che fu la stazione ferroviaria principale di Bangkok. Purtroppo l'hanno proprio dismessa, chiuse in questi giorni e ne hanno aperta o la stanno per aprire vicino a Chatuchak al nord, vicino al Weekend Market grande, moderna. Questa era bellissima. Speriamo che non la chiudano proprio definitivamente, nel senso che si possa sempre visitare. Allora, questo è il Campolini. Quelle là sono le barchette elettriche. Questo ponte è bellissimo, eh? Guardate, che bello. Qui c'è scritto Bangkok, cioè c'è scritto Grunthe Mahanakon che è l'abbreviazione di Bangkok perché Bangkok ha il nome in lingua finlandese più lungo al mondo, c'è proprio il Guinness dei primati. No, a memoria non lo so, so che è. Grunthe Mahanakon Rattanakon No, 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 non me lo ricordo. È lungo mezza pagina. Questa è la stazione di Walampong in tailandese Tarua Molo Tarua Satani Satani Rotfai cioè stazione del treno Walampong che è il nome della stazione. Non è la stazione di Come in questoinquimento, ok, credo. Andereiki staggianti, dove in questo tripno. Odilevo all'icrante. Andereiki staggianti. Ok. Vediás ma solo se ti ha. Noi se ti ha. Scutevo di Thai. Tu devi guardare? Non, do non. Ok. Grazie mille. Grazie mille. e questa è tutta elettrica, pannelli solari e via qui stanno ritacendo il lungo fiume e vogliono fare una cosa un po' più così da passeggio questo canale è quello che crea l'isola di Ratanacosin tra John Praia che è il funerio principale che divide Bangkok poi questo è uno dei canali più grandi che forma l'isola di Ratanacosin dove c'è il Palazzo Reale, il Tathpo e il Ratanacosin questo è un mercatino lungo il fiume siamo arrivati a un incrocio con un semaforo che strano attenzione all'incrocio e infatti è vero ecco, so mica è la Venezia dell'Asia a caso solo Thai, neanche un Farang Farang sono gli occidentali neanche gli stranieri in generale proprio chi ha la faccia da occidentale quindi un giapponese non è un Farang un cinese non è un Farang un indonesiano eccetera eccetera vediamo qui se fanno l'ormeggio bene cosa tirerà su? ha pescato, ha pescato la pescolina questo è il capolinea ragazzi qui si fermano proprio capolinea c'è un iguana che si sta mangiando un pesce questi casi di bambù sono come dei ferme immondizie e lui si è messo lì iguana ecco un bel bagnetto cioè se uno non lo sa che è un iguana uno pensa che è un piccolo di cocodrillo ma questo è un altro sembra più piccolo guarda guarda che sale sì questo è molto più piccolo dell'altro mi sembra sì 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 è molto più piccolo iguana sono venuta a sbirciare dei watt vicino al fiume guardate cosa ho trovato c'è questo baracchino che vende pane 40 baht e 20 baht con del pane raffermo da dar da mangiare i pesci qua sul fiume adesso io lascio 20 baht vedi? ahan la cibo per i pesci e si va a dar da mangiare i pesci oddio alcuni sembrano degli squali e si va a dar da mangiare i pesci pappi Sì, c'è o mac? Sto messo qua per un pezzo di carne? È il vero senso della parola. Com'è che nasce il Covid? Tra un uccello e un... Forse non è proprio il posto migliore dove stare. Fa un po' impressione. Più è meglio se la mascherina non me la levo. Oggi sono molto contenta perché sto facendo un pranzo eccezionale con i miei amici thailandesi. Mi erano venuti anche a trovare in Italia e hanno ordinato dei piatti che io non conoscevo. Per esempio la medusa. Questa è medusa e si mangia così in una specie di insalata ma è buona, sembra un po' crunchy, non so, un po'. Ok, mangiamola insieme. Non ha sapore del sugo a dire la verità. La consistenza è molto divertente, però il sapore non si sente tanto. Buon panciante! Buon panciante! Ciao!